E intanto abbiamo ripristinato il collegamento audio con la partita fra Mali e Algeria, c'è proprio in questo momento un'azione pericolosa, il gol del Mali che abbiamo visto per l'1-0 segnato dall'attaccante Ture Bassala, allora 2-0 in questo momento, 2-0 in questo momento per il Mali che festeggia il gol con la folta pattuglia di tifosi sugli spalti, vi ricordo che il Mali era in vantaggio 1-0 grazie al gol dell'attaccante dello Strasburgo Mamadou Bagaioco, vedete oggi un colpo d'occhio sugli stadi davvero entusiasmante rispetto a quanto si era visto fino a questo momento, ovviamente il Mali squadra di casa quindi ha un apporto di pubblico notevole ma lo stiamo vedendo anche dagli altri campi una situazione di pubblico sicuramente crescente rispetto all'interesse della manifestazione. Rivediamo una falla clamorosa nella difesa dell'Algeria che aveva già dimostrato le sue lacune di velocità e di posizionamento tattico nelle partite precedenti, una squadra dell'Algeria penalizzata oltremodo dalla sua difesa legnosa, fatta di difensori centrali poco mobili, già appunto nelle gare precedenti aveva avuto modo di venire fuori questa pecca, questo difetto che è un difetto che evidentemente...